Giovanni Verdone, Presidente, anzi Presidentissimo del San Giovanni in Caldo Calcio, siamo arrivati alla trentennale, una cifra molto molto importante. Sì, senz'altro. Comunque il riconoscimento che mi hanno fatto a Roma, praticamente adesso voglio darlo, questo riconoscimento, anche a chi per trent'anni mi ha aiutato fattivamente, socialmente, moralmente e soprattutto anche economicamente. E quindi oggi, stasera anzi, farò queste premiazioni a chi mi ha aiutato, agli allenatori, agli sponsor e agli organizzatori di una squadra. Negli anni mi hanno dato una mano veramente fattiva. Ho fatto sempre campionate di seconda categoria perché io faccio campionati per salvarmi, perché faccio più sociale, quindi ho fatto giocare anche molti ragazzi che erano del posto. Ho preso, ho attinto anche da paesi vicino come Campo di Pietra, Toro, Campo Basso soprattutto e anche qualche universitario proveniente da Benevento. Tutti i ragazzi giovani che si sono comportati sempre bene, sia agonisticamente e sia soprattutto come moralmente. Quindi devo fare un applauso a tutti questi ragazzi che mi hanno dato in questi anni grandi soddisfazioni. Presidente, una domanda sorge spontanea. Qual è il segreto per mantenere una squadra per così tanto tempo? Il segreto è soprattutto essere compatti. Sì, nel senso io ho avuto negli anni la costanza, anche se molte volte ho avuto delle critiche dicendo ma chi te lo fa fare, ma perché chi te l'ha ordinato il medico. Ma siccome io provengo da società antiche, la Gifra che è nata nel periodo degli anni 60, poi mi sono spostato alla Virtus dove ho incontrato il professore Leone che mi ha dato veramente delle direttive e dove ho incontrato tanti amici, tanti amici come De Libero, come il grande Nicola Palladino, Roberto e anche il vostro direttore, era un mio grande compagno e molte volte anche avversario sui campi perché poi mi sono buttato ai circoli giovanili. Quindi non mi sono mai... c'era un circolo che si chiamava l'Onda che si contendeva i campionati amatoriali, logicamente, con il ciclo Così è se vi pare, lo giovane, parliamo sempre degli anni 70. E quindi per me è stata sempre una cosa gradevole stare in mezzo ai giovani. Tanto è vero che nella premiazione Gianni Rivera mi ha detto caro Gianni, ma come... Giovanni, come hai fatto? E ho detto guarda che ora non finisce qui. Quindi è stata una bella soddisfazione a Roma, mi ha premiato Tavecchio e Cosentino, il presidente dei dilettanti. E ora sto qui a ricambiare questo ringraziamento a quelli che mi hanno aiutato.